Voglio dire con grande franchezza che sono molto orgoglioso di tutti noi, di come abbiamo affrontato questa settimana. Noi ci siamo visti qua lunedì la settimana scorsa in un momento per noi drammatico e la comunità che abbiamo messo insieme ha resistito, si è stretta con grande solidarietà e devo dire che mi ha colpito e anche nei momenti più complicati ho trovato davvero tanta forza perché tutti, nessuno escluso e con particolare determinazione quelli che si sono avvicinati a questa nostra avventura nei mesi scorsi tutti convinti che in ogni caso qualunque fosse stata la sentenza saremmo andati avanti a strutturare la comunità per affrontare con strumenti diversi ovviamente i problemi enormi di Roma a cominciare dai problemi sociali che lo voglio dire con grande franchezza a quelli che in questi giorni hanno pensato di poter fare facili incursioni tra il nostro popolo. Per noi le questioni sociali a Roma sono la priorità, una priorità che non ritroviamo in nessuno dei programmi degli altri candidati in campo.